Punti pesanti in palio nella bassa classifica del girone A del campionato di prima categoria, si gioca a Promano la partita fra i locali in maglia nera e il Ponte Pattoli, Promano ultimo con 11 punti, non sta tanto meglio il Ponte Pattoli che di punti ne ha 13, la prima opportunità, l'abbiamo visto questo calcio d'angolo, il pallone arriva a centro aria, il colpo di testa di Cantaramessa per il primo dei suoi due gol e dunque con il Promano che si porta in vantaggio, eravamo al settimo minuto, all'undicesimo la risposta della squadra ospite, il tiro di Tancredi e la palla che sfila sul fondo, ma sarà una grande giornata per lui, lo vedremo più avanti, ancora il Promano, tiro dalla distanza, vola il portiere Caccioni a mettere in angolo e arriva anche il raddoppio al trentesimo, il colpo di testa ancora di Cantalamessa e ancora su calcio d'angolo, 2-0 difesa del Ponte Pattoli, davvero troppo ferma e qui per poco non ci scappa anche la terza rete con questo tiro che termina sul fondo e ancora palla pericolosa in area di rigore e l'azione però si perde. Al trentacinquesimo, bella la giocata degli ospiti, la palla in area di rigore e arriva alla rete il primo dei quattro gol di Luca Tancredi per la rete del 1-2, ma c'ha la palla addirittura del terzo gol, il Promano salva sulla linea incredibilmente all'ultimo istante il difensore pace del Ponte Pattoli e all'ultimo istante del primo tempo ancora azione che immischia che però non produce gli effetti sperati. Finisce dunque con il Promano in vantaggio per 2-1 il primo tempo frutto di due disattenzioni da parte della difesa ospite su altrettanti calcio d'angolo. Azione in area di rigore, proteste, ma l'arbitro dice che si può proseguire, dunque l'arbitro Andrea Reali di Foligno non concede il calcio di rigore. Ancora il Ponte Pattoli, palla in mezzo, il tocco di prima intenzione davvero bello. Ancora di Tancredi che segna la rete del 2-2. Si prova a riportarsi in avanti il Promano con questa conclusione che termina lato al sedicesimo. Ventesimo, ancora l'azione da parte di Maccioli, la palla in area di rigore per Fiorucci, il cross al centro libera in qualche modo la difesa di casa. Ventiseiesimo, c'è questa azione in profondità da parte del Promano, il tiro ed il gol con il Promano che torna nuovamente in vantaggio. Stavolta è bomber rollo ad infilare la porta e qui il portiere poi Mancini a conservare. Ma siamo nei minuti finali del match e allora la palla arriva a Tancredi sotto porta e stavolta è ancora il portiere a fare buona guardia. Ci sono anche delle proteste, l'arbitro però Reali è irremovibile. Ancora il Ponte Pattoli, azione sulla destra, intervento questo netto da calcio di rigore, davvero ingenuo. Questo intervento del giocatore del Promano va sul dischetto Tancredi e segna il 3-3 proprio su calcio di rigore. Nei minuti finali ci scappa addirittura la vittoria per la squadra ospite, prima con questa conclusione che termina alto e poi eccolo il filtrante. Per Tancredi che supera il portiere, nessuno riesce ad intervenire la giornata che va oltre il portare via il pallone, fossimo in Inghilterra, è completa per Tancredi che va ad esultare sotto i suoi tifosi. Dunque ribalta tutto il Ponte Pattoli nel finale anche scede di nervosismo con l'espulsione per un giocatore in mischia, un giocatore del Ponte Pattoli. Non abbiamo visto precisamente di chi si tratta, comunque Ponte Pattoli che rimane in 10 uomini al 46 esibo, la palla arriva in area di rigore, c'è un batti e ribatti è l'opportunità. Per i padroni di casa sfuma era l'ultima occasione, grande vittoria importantissima per il Ponte Pattoli, per come è venuta e per gli effetti che ha in classifica. Non è facile commentare una partita di questo tipo perché è una partita che il primo tempo già poteva essere conclusa, eravamo in netto vantaggio, 2-0 ma anche nel campo ci stavamo comportando bene, lo stavamo tenendo benissimo e poi abbiamo commesso questo errore a fine del primo tempo, abbiamo preso il gol del 2-1 e questo ha sicuramente avvantaggiato gli avversari, li ha rimessi in gioco. Noi abbiamo fatto poco, andati in netta difficoltà, loro ci hanno creduto sicuramente di più, poi avevamo avuto anche la possibilità di tornare nei tre punti pieni perché siamo tornati in vantaggio ma commettiamo degli errori troppo ingenui e quindi queste sono le nostre difficoltà, quello che oggi paghiamo è tutto qui. È stata una partita direi molto aspra, una partita che ci ha visto premiati con un risultato rocambolesco, è una partita che l'abbiamo fatta in salita, l'abbiamo condotta ricostruendo il morale alla fine del primo tempo, è una partita insomma costruita sulla convinzione.